Con Diego abbiamo fatto una splendida esperienza di campagna elettorale per le europee. Diego è un ragazzo giovane, bravo, dinamico, intelligente, troppe cose buone sul suo conto, però io vorrei davvero che queste primarie per la regione confermassero la sua esperienza, perché Diego significa rinnovamento, ma significa anche esperienza, perché già è stato nel Consiglio regionale della Toscana. Il mio sostegno, il mio appoggio è per Diego e mi auguro che tanti gli diano il loro consenso e il loro voto alle primarie. In bocca a lupo! Io non ho l'età per amarti, io no, 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 no.